Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi sabato 9 settembre, in controluce, tanto quello che conta saranno le... e quello che racconteremo. Beh, insomma, la cosa fondamentale che è avvenuta oggi e che c'è su tutti i giornali è... e riguarda, con pesi diversi, perché ci sono giornali che fanno l'apertura, altri che invece lo tengono un po' più in seconda fila, per esempio la stampa ci apre. La questione fondamentale, insomma, di oggi è questa scena di cronaca incredibile che sarebbe venuta a Firenze, cioè l'ipotesi di stupro da parte di due ragazze americane, da parte di due... e questo è già grave, incredibile di per sé, ma da parte di due carabinieri. Questa è l'ipotesi, cioè che due carabinieri abbiano stuprato due ragazze americane giovanissime. Le dinamiche non sono ancora molto chiare, se non che queste due ragazze erano in una discoteca, in questa discoteca viene chiamata la polizia, i carabinieri, arrivano tra i gazzelli dei carabinieri, due di queste ragazze cercano un taxi, per 15 minuti lo aspettano, il taxi non arriva, i carabinieri le accompagnano a casa e lì ci sono 23 minuti che ballano, nel senso che non si riesce a sapere attraverso le telecamere che non ci sono davanti all'androne di questa casa se i carabinieri effettivamente rimangono là, se le scortano in casa, se le fanno salire sopra e se, come le ragazze denunciano, uno dei due carabinieri ha violentato una di queste ragazze in ascensore e l'altro l'ha violentata sulle scale. Queste sono le ipotesi dell'accusa e sono ipotesi che sono suffragate dal fatto che comunque ci sono delle prove, degli indizi molto forti sul fatto che abbiano subito effettivamente i rapporti sessuali. Qua c'è Lucio che dice due zoccole, io direi che Lucio non si deve permettere di dire una cosa di questo tipo per due ragazze americane che sono in Italia e comunque per due ragazze che hanno subito l'ipotesi, che abbiano subito violenza. Lasciamo perdere veramente questo atteggiamento. Molti di voi ora in diretta stanno commentando che non ci possono credere a quello che è avvenuto. Alcuni di voi commentano il fatto che queste ragazze, sto guardando i vostri commenti in diretta, avessero un'assicurazione contro lo stupro, come dire fingere uno stupro permette loro di avere dei soldi. Io parto da un altro presupposto. Io parto dal presupposto che c'è stato uno stupro, non sappiamo esattamente se i carabinieri siano stati colpevoli, ma sappiamo che è una cosa che se è avvenuta è di una gravità senza limiti, perché i carabinieri, i poliziotti che in divisa stuprano, o anche hanno dei rapporti sessuali con delle ragazze nel loro momento di servizio, nel loro periodo di servizio, se fosse soltanto un rapporto sessuale, neanche lo stupro, ma se fosse soltanto quello sarebbe gravissimo. Non fa parte del lavoro dei carabinieri e dei poliziotti avere rapporti sessuali durante i loro periodi di lavoro. Se c'è lo stupro è ancora, ovviamente, incredibilmente peggio. Tutti commentano questa vicenda, tutti sono sconvolti, perché, devo dire la verità, l'amore che noi abbiamo per l'arma, chi parla per i servitori dello Stato in divisa, ce l'ha in maniera incondizionata, insomma, come forse qualcuno di voi ha commentato prima, si tratta di un vero e proprio colpo al cuore. Scusami, stai continuando a dire ipotesi? Qualcuno di voi mi dice che sto continuando a dire ipotesi? Certo che sto dicendo ipotesi, così come dicevo ipotesi sul fatto che c'erano quattro marocchini, e in realtà non erano marocchini, che hanno stuprato una coppia di polacchi recentemente a Rimini e un peruviano trans, un transperuviano. Erano anche quelle ipotesi basate soltanto sulle dichiarazioni dei violentati. Poi si è visto che sono stati presi e poi ci sarà un processo che li condannerà o no, ma comunque anche loro per il momento sono, anche quelle sono ipotesi. Quindi insomma cerchiamo di andarci piano, le ipotesi valgono per tutti quanti, ma così come mi sono sentito di considerare delle bestie quelle che hanno fatto a Rimini la questione, lo stupro di Rimini, il branco di Rimini, qui non c'è il branco ma qui ci sono due carabinieri e se venisse confermato proprio perché abbiamo a cuore il principio indipendentemente dalle circostanze dobbiamo denunciarlo con forza. Sallusti interviene su questa vicenda, vi ricordate ha fatto tutta la polemica dicendo sul giornale che lo stupro che è venuto a Rimini non è stato subito denunciato come uno stupro di stranieri, ma si è avuta molta pruderia contro di questo. E quindi Sallusti che cosa scrive oggi? Dice una cosa che io condivido al 100% che ho detto fino ad ora, che lo stupro in divisa è ancora più grave di uno stupro normale perché rompe quel rapporto fiduciario con i tutori dell'ordine. Però dice che i carabinieri non sono fuori controllo, se è successo è gravissimo e verranno puniti. Dice Sallusti, ma a differenza di un'immigrazione incontrollata, il problema, dice, gravissimo da condannare in questo caso, non è certamente generalizzato. Questo è quello che dice Sallusti, ci sarà ovviamente moltissima polemica su questo e mi sembra che questa sia... Ecco, Paolo, come tanti altri, sottolineo il fatto che queste due ragazze siano strafatte. Una aveva fiammato uno spinello, l'altra, come si dice sul genere uno spinello, si era fatto un cannino sostanzialmente, l'altra erano ubriache, che tant'è che anche nella loro ricostruzione dicevano che non potevano salire da sole in escezione. Però, cari miei amici che state qua e che dite che queste ragazze erano strafatte, se un carabiniere si fa una ragazza strafatta con la sua difisa, se mi permettete, è anche peggio. Cioè, un carabiniere non è un adolescente con un adolescente che si conoscono da anni, sul quale possiamo discutere lo strafatto, lo non strafatto, ma un carabiniere che si trova una ragazzina americana strafatta e che ha con lei un rapporto sessuale, è colpevole due volte. Di che cosa state parlando? Il fatto che siano strafatte dà forse la dimensione della loro assurda condizione in cui si sono trovate, ma non giustifica minimamente, non attenua minimamente, anzi si aggrava la situazione delle persone indifise che l'hanno fatto. Ma dai, non stiamo a scherzare su queste cose. Andiamo avanti su il grande scoop, sì, tra l'altro uno spinello si è strafatto, bah, dice qualcuno, in realtà non è lo spinello che le ha strafatte, erano ciucche, cioè come si dice, avevano bevuto secondo quello che dicono le ricostruzioni, avevano mischiato alcol e droga. Comunque di questo ne parleremo nei prossimi giorni, vedremo quello che emergerà nei prossimi giorni. Io vi dico, mi auguro con tutto il cuore che i carabinieri riescano a dimostrare la loro innocenza, me lo auguro con tutto il cuore, ma se così non fosse sarebbe gravissimo. Per quanto riguarda gli altri scoop della giornata, beh, insomma, il vero scoop della giornata oggi è sul Tempo, diretto da Chiocci, perché pubblica quattro pagine di chat, le famose chat della Raggi con i suoi uomini di fiducia, cioè Marra, Froncia e Romeo, che non ci sono più, adesso siamo tutti dimessi, uno è in galera, l'altro è indagato. Ecco, la vera cosa che secondo me è significativa di questo scoop del tempo, cioè dell'immagine di queste chat che si mandano, comunicazione, il rapporto con l'avvocato San Marco, Matrix aprirà il 12 e secondo me di stupri, anzi ve lo dico subito, di stupri il 12 parleremo, Matrix il 12. Allora, la vera cosa del tempo che mi ha colpito è come è evidente in queste tre pagine che la difesa a posteriori che ha fatto Virginia Raggi dicendo che uno era uno dei 23 mila dipendenti, insomma, in realtà lei ci ha raccontato una storia dei rapporti con questi qua che non sta né in cielo né in terra, cioè possiamo dire una cosa, l'arrogantella Raggi quando ci ha detto che chi ha arrestato era uno, uno dei suoi 23 mila dipendenti ci ha detto una minchiata, perché era uno dei quattro con cui lei faceva una chat che vi invito a leggere oggi sul tempo. Su questo c'è una piccola notazione giornalistica, ho notato che l'unico che riprende la foto della chat dei quattro e riprende le questioni del tempo è la Repubblica, lo fa in prima pagina e poi in una pagina avanti. Beh, Repubblica secondo me l'ha copiata, cioè si è resa conto che il tempo nella segna stampa di notte aveva questo scuppone e sostanzialmente ci è andata sopra, come si suol dire, in ribattuta. Comunque molto divertente il tempo di oggi. I Pagnoncelli sul Corriere della Sera parla di politica e di sondaggi, il centrodestra strarebbe avanti al 35% rispetto al PD che è al 26,5%, il Movimento 5 Stelle è al 26,6%, bisogna semplicemente poi capire se il centrodestra andrà tutto unito o se l'ha diviso. E all'interno del centrodestra, secondo i sondaggi di Pagnoncelli, Berlusconi avrebbe più voti di Salvini, di poco, 15,6% rispetto al 15%. Questo è quello che dice Pagnoncelli oggi sui suoi sondaggi. Intanto un'indiscrezione riguardo alle elezioni siciliane, quella di Renzi che ieri apre la campagna elettorale e dice sapete che vi dico che se il PD perde in Sicilia, e pare che perda decisamente perché in Sicilia se la giocano il Movimento 5 Stelle centrodestra unito, se il PD perde, dice Renzi, è colpa della nostra sinistra, cioè quella del Movimento di Bersani, D'Alema, che stanno con Fava e ci tolgono tanti voti utili per arrivare e concorrere alla guida della Sicilia. Morgan sta con Sgarbi, cioè il grande giudice di X Factor vuole essere candidato nella lista Sgarbi in Sicilia, che ancora non si capisce bene con chi stia. Il governo frena sulle intercettazioni, dice oggi Repubblica, perché parla con Orlando, invece Belpietro e il fatto dicono che scandalo, questa roba delle intercettazioni, è una mossa per evitare che si parli di Consip. Infine, il Sole 24 Ore è molto divertente, nel senso che è l'unico giornale che mette, forse Repubblica un pochino, mette in risalto il fatto che l'euro nel frattempo si sta rafforzando incredibilmente. Dall'inizio del 2017 ha guadagnato il 15% rispetto al dollaro, insomma è molto più economico andare in America a fare i turisti, è molto più caro per noi, è molto più difficile per noi vendere le merci in America. Quanto questo potrà pesare, lo vedremo nei prossimi tempi. Bene, direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento domani e comunque vi ricordo a tutti quanti voi che il 12 settembre, in seconda serata, c'è Matrix. Parleremo degli stupri, parleremo delle cose di cronaca che riguardano i due carabinieri, Firenze, ma che riguardano anche il grande e incredibile stupro di Rimini. Tutto questo a Matrix il 12 settembre, dovete esserci. Ciao!